il più cordiale saluto per tutti quelli che ci stanno guardando su e tv questo è il dicimo natale maurizio e il centro sul gruppone caro franco ci divertiamo ma soprattutto diamo la parola quanti ci seguono tutto l'anno e hanno voglia di fare questo video augurio quando non ci cacciano perché già vedo la security che ci sta guardando in cagnesco facciamo un po gli auguri allora li facciamo a tutti i ragazzi che possono trovare il lavoro come hanno trovato i miei figli e basta solo per salute a tutti quanti auguri a tutti anche voi a tutte le donne auguri a tutte le donne auguri a tutti a tutta l'italia auguri di buon natale a tutti quanti tanti auguri di buon natale a tutte le ragazze conoscerò quest'anno state finito l'anno quindi non so quanto conoscerò finché c'è vita c'è speranza allora abbiamo trovato speranza ciao speranza come stai la dursata no così c'è una dursata una dursata partiamo dagli auguri innanzitutto a chi vogliamo fare che cosa vogliamo curare a mia madre a mio nonno e a tutti i miei familiari buon natale felice anno nuovo ma che ce li fa montruna dei nocci l'anno nuovo dici boh guarda io adesso studia spero spero non so da tutti gli esami almeno stanno che cosa studi un po scienze ambientali voglio salutare tutte le persone che ci stanno sempre accanto che ci aiutano in qualsiasi momento anche quando non chiediamo niente invece del regalo di natale dagli amici e agli amici veri una chiamata o un caffè insieme un augurio di quale volevo fare tanti auguri a nonno tutta la famiglia che vi segue sempre ciao da te allora faccio la parte di babbo natale anche se non c'ho la barba bianca ancora come ti chiami michele come di visto che lo conosco come ti chiami michele bel bambino michele di sabbia vuoi buon natale e felice anno nuovo da fd buon natale e felice anno nuovo da fd se mi volentieri i'll give it to someone special Grazie a tutti